Ciao ragazzi e benvenuti su Casti Up Drums. Nel video di oggi voglio andare a fare un esperimento, diciamo. Come potete vedere ho già un pacco qua, lo vedete male, ma è un pacco di strumentimusicali.net che come al solito mi permette di fare tutto quello che voglio. Quindi io oggi voglio andare, sono praticamente andato a ordinare un rullante economico e voglio capire se cambiando qualcosina quel rullante può diventare una figata oppure rimane un rullante economico e basta e quindi un rullante di fascia economica quindi che non è il massimo della vita. Ho preso uno dei rullanti più economici che ho trovato su strumentimusicali.net che è questo qua, lo vedete? No? Che è questo qua, cioè il rullante della Tamburo T5. Ho già fatto dei video sulla Tamburo T5, vi lascio tutti qui sotto in descrizione e in realtà la Tamburo T5 è una batteria che suona, pur essendo economica, suona bene quindi ve la consiglio assolutamente però voglio capire oggi se a un rullante della T5 della Tamburo possiamo far fare uno scalino in più, quindi farlo diventare un rullante semiprofessionale. Voglio vedere un attimo, bella questa cosa. C'è anche tutto il vellutino con marchiato Tamburo, molto carino, molto carino. Tra l'altro non mi ricordo neanche di che colore l'ho preso, ma vabbè. Comunque trovate sempre tutto sotto in descrizione. Adesso aspettate un secondo. Uh, è vero, è vero, è vero, me lo ricordo adesso, me lo ricordo adesso. Molto particolare la finitura, che è questo verde scuro, verde nero eccetera, molto leggero come rullante, eccolo qui. Questo è un rullante Tamburo da meno di 100 euro, quindi siamo alla grande sotto i 100 euro. Vediamo come funziona. Quindi per capirlo ho preso principalmente, non mi ricordo quante cose, ah sì, tre cose. Allora, numero uno, pelli. Quindi ho preso una pelle risonante, una Snare Side 300 della Evans da mettergli sotto e una Genera Dry da mettergli sopra sempre di Evans. Così, incominciamo a cambiargli le pelli. Togliamo le sue native, diciamo, e vediamo come funziona. E poi ho preso una cordiera Pearl da 20 fili e voglio capire anche se con una cordiera diversa possiamo andare a scoprire qualcosina di più sul rullante. Soprattutto possiamo andare a vedere se il rullante migliora oppure se rimane un rullante economico. Vediamoli insieme. Qui ci sono anche un paio di bacchette con il rullante che ho preso. Tanto meglio se ci sono. Meglio averle che non averle. Io mando la sigla e poi ci spostiamo di là, tolgo il mio rullante, metto questo rullante e facciamo un po' di due. Ok, molto bene. Eccoci qua con il nostro rullante tamburo T5. Questo è un rullante tutto completamente in pioppo, quindi super leggero, come vi ho detto. ed è 14x5,5, quindi anche abbastanza corto, non so mai come si dice sta roba, abbastanza basso diciamo e quindi con un suono medio acuto. Allora, ve lo faccio sentire come l'ho montato, quindi non l'ho accordato, l'ho piazzato, ho messo il microfono sopra e sotto e adesso ve lo faccio sentire. Direi che non devo andare avanti più di così perché ovviamente questo rullante è da accordare, volevo solo farvelo sentire così, così da far pian pianino una cosa graduale per sentirlo sempre meglio o almeno si spera sempre meglio. Quindi vado ad accordarlo un attimino senza utilizzare accordatori, senza utilizzare niente perché non tutti abbiamo degli accordatori in casa, quindi voglio vedere anche quanto è facile da accordare, quindi lo vado a accordare non a caso, ma voglio accordarlo un po' come viene e capire come suona, per poi andargli a cambiare pelle eccetera eccetera eccetera. Diamogli una tirata anche sotto che è bello morbido sotto. E adesso avendo tirato la pelle sotto, la pelle si è un pochettino alzata per essere tirata, quindi devo andare anche un po' a aumentare, avvicinare la pelle alla cordiera, quindi tirarla un po' sulla cordiera con questa ghiera. Direi che è già meglio. Ok, allora ovviamente avendo una pelle monostrato della tamburo e una pelle sempre della tamburo sotto abbiamo tanti armonici. Per questo adesso, aspettate un attimo, eccomi, vado a cambiare le pelli mettendo una General Dry che è sempre monostrato, ma con questi buchini, con il ring sotto, così da tenere un po' gli armonici e poi vado a mettere anche una pelle risonante per capire che cosa succede. Qui ovviamente il suono non è male, ma ci siamo capiti. Allora, vado a cambiare tutto, quindi togliamo il microfono, cambio tutto e ci vediamo dopo, così vediamo cosa cambia, come cambia questo rullante qui. Quindi, montato, vi ho lasciato stare tutta la parte di montaggio, eccetera, perché sarebbe stata un po', ci siamo capiti, sarebbe durata un bel po', e allora ho dato un'accordata al rullante e direi che è tutta un'altra cosa. Vi ricordate gli armonici che aveva, eccetera? Sentite qua. Come potete vedere è diventato un rullante super secco, ma senza armonici, perché grazie a questa pelle il rullante risponde molto 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 bene. Quindi non è vero che i rullanti che hanno tanti armonici non possono essere aiutati in qualche modo, non possono essere gestiti. Qui con una pelle monostrato, quindi non è una pelle che ti ammazza tutto, ma una pelle monostrato con questo rinforzo, diciamo, e questi buchini per far uscire l'aria, abbiamo risolto il problema. Non vi ho fatto appositamente il video in cui vi faccio vedere la monostrato di tamburo e poi vado a cambiarla con un'altra monostrato identica, ma di Evans o Remo, perché secondo me non ha tanto senso. Se vogliamo fare una comparazione tra pelli, ok, ma altrimenti ha senso cercare la pelle giusta, la pelle che stiamo cercando per il suono che vogliamo ottenere. Qui volevo togliere un po' di armonici, la Genera Dry perfetta. Sotto, come vi ho detto, c'è la Snare Side 300 sempre di Evans, che dà una mano, perché comunque dà un pochettino di definizione in più, perché comunque sentite le Ghost come sono definite. Sono molto più definite di prima, ma gli manca qualcosina a queste Ghost, quindi gli manca forse un po' di cordiera bella, diciamo. Quindi vado, aspettate di nuovo un attimo, eccomi di nuovo tra voi. Ultrasound Snare Wire, cioè snare filo, cioè rullante filo, vabbè, di Pearl, però mi manca un pezzo a noi qua. Che bello arancione, che bello arancione! Quindi adesso vado a cambiare la cordiera di questo rullante, la cordiera è, boh, tamburo, una cordiera a caso, senza marca, vado a mettergli una cordiera che teoricamente è figa e vedo che cosa succede, se il suono cambia o se il suono non cambia. Prima appoggio lì, e anzi no lì perché poi si vede nelle camere e non mi piace. Ve la faccio sentire rullante, vi faccio qualcosa così poi dopo andiamo subito a paragonarlo con l'altra cordiera. Adesso cambiamo cordiera. Vado. Cordiera cambiata, allora come potete vedere ci sono i filini arancioni qua della nuova cordiera e allora ve la faccio sentire subito, non riesco a parlare, ve la faccio sentire subito così avete ancora nell'orecchio il suono di prima. Allora mi sembra un po' più definita questa qua, forse un pochettino più bassa come intonazione, però ancora ragazzi, però mi sembra che più che altro il suono che dà sia più il suono da cordiera come siamo abituati a sentirlo, quindi secondo me il miglioramento c'è. Secondo me c'è un buon miglioramento con la cordiera e è difficile da sentire direttamente qua, ma lo sentirei in registrazione e voi che lo state sentendo in registrazione ditemi cosa ne pensate della cordiera qui sotto, quale vi piace di più tra le due. Adesso facciamo così, vi faccio sentire lo stesso pezzo che ho suonato prima, sia con una cordiera sia con l'altra cordiera, ma facendovi sentire solo ed esclusivamente il microfono del rullante sotto, così il microfono della cordiera proprio e sentiamo che cosa cambia. Grazie a tutti. Ok, quindi così si riesce a capire un po' di più che il suono della cordiera, cioè la tipologia di cordiera che stai zitta però adesso cordiera, ti prego perché sto parlando, quando parlo la cordiera è importante, è molto importante, quindi abbiamo ordinato il rullante, l'abbiamo suonato, era un rullante un po' me, gli abbiamo fatto due level up con le pelli, soprattutto secondo me con questa genera dry che è una pelle pazzesca, trovate il link di questa pelle e di tutto il resto, in descrizione, poi pelle sotto, nuovo level up e poi cordiera level up aggiuntivo. quindi questo rullante economico da poco più che 80 euro è un rullante economico e basta? La risposta secondo me è no, nel senso di solito pensiamo al rullante economico come rullante da niente, cioè lo uso il primo mese in cui suona la batteria e poi basta. Questo rullante qua ragazzi, allora, tre domande. La prima l'ho già fatta, è un rullante economico e basta da utilizzare i primi due mesi e bon, la risposta secondo me è no. È un rullante con cui posso fare i dischi e andare a suonare con la Pausini o con i Red Chili Peppers e fare qualsiasi genere? La risposta anche in questo caso è no, ovviamente i rullanti da 1000 euro sono completamente diversi come suono, come tipologia di accordatura, come versatilità eccetera. Ma la seconda, questa è la terza domanda in realtà, la seconda domanda è posso utilizzare questo rullante per abbastanza qualsiasi genere, per andare a suonarlo con la band live, per tenerlo in casa e magari registrarlo anche? La mia risposta è assolutamente sì. Giudicate voi in base a quello che avete sentito e scrivetemelo qui sotto nei commenti. Rullante economico, oggi abbiamo speso tra rullante, cordiera, pelle e pelle sotto più o meno sui 120-130 euro e abbiamo un rullante che raga, proviamo senza cordiera? A me piace anche senza cordiera. Raga, comunque devo dire che la T5 in generale è una batteria pazzesca, quindi anche rullante è molto interessante e oh, ve lo dico, con questi level up che abbiamo fatto oggi, veramente molto 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 interessante. Quindi voglio sapere i vostri commenti, voglio sapere, no i vostri commenti, voglio sapere cosa ne pensate qui sotto, mi raccomando, sono molto curioso perché è una prova che volevo fare da un po' in realtà, quindi sono molto curioso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato e per avermi lasciato ordinari tutta questa robina, come al solito, grazie mille strumentimusicali.net, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di supportarmi, di sopportarmi anche e basta, raga, arrivo sempre al fine video che sono un po' cotto e quindi dico cavolate, quindi anche in questo caso vi saluterò così. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!